Tale e quale show 2017, Lorenza Mario e Marilyn Monroe, strepitoso primo successo Seconda puntata del torneo di Tale e quale show, Lorenza Mario dopo aver vestito i panni di Dionne Warbiqua questa sera imiterà la celebre Marilyn Monroe. Nei panni di Marilyn Monroe. Tra coloro che si stanno mettendo maggiormente in mostra a tale e quale show 2017 c'è senza dubbio la celebre ballerina e coreografa Lorenza Mario che questa sera, dopo essere stata nella passata settimana una eccellente Dionne Warbiqua, è attesa da un compito proibitivo in quanto dovrà imitare una leggenda come Marilyn Monroe. Secondo le anticipazioni il pezzo in questione è di Amunds area Girls Best Friends, una canzone che venne inserita nella sceneggiatura originale del celebre musical Gli uomini preferiscono le bionde del 1949, scritta da Hugh Lestine e Leo Robin le cui parole sono basate su una storia della scrittrice americana Anita Loss. Tra laltro la Monroe canta questo brano anche nella versione cinematografica del musical. Lorenza Mario, una meritata vittoria. Nella scorsa puntata di tale e quale show, Lorenza Mario ha letteralmente conquistato tutti con una sontuosa interpretazione del brano Issaia Little Prayer vestendo i panni della cantante americana Dionne Warbiqua. Una super esibizione che ha permesso alla Mario di ottenere la sua prima standing ovation e soprattutto la sua prima vittoria in una puntata di tale e quale show. I voti naturalmente per lei sono stati altissimi a partire dal quarto giudice di serata, Maria De Filippi che l'ha valutata come migliore e quindi dandole 16 punti. Cristian Tessica e Enrico Montesano l'hanno posta al secondo posto con 15 punti a testa mentre la Goggi sul gradino più basso del podio per un totale di 60 punti a cui poi se ne sono sommati ulteriori 15 per un totale di 75. Vittoria meritata e quindi ottime possibilità di aggiudicarsi il torneo. Clicca qui per rivedere la Mario nelle vesti di Dionne Warbiqua.